quindi ricapitolando ricapitolando prendete il legno lo agganciate e poi lo tagliate il signor Bargiotta che abbiamo intervistato poco fa ci dà una dimostrazione di questa macchina che prende i tronchi e li taglia, li seziona diciamo che questa macchina fa un lavoro più professionale di quella che tutti conosciamo ormai come la spaccalegna guardate, lo prende e il pistone lo spinge sulla lama guardate, ormai la tecnologia avanza, la tecnologia anche progresso quindi aiuta l'uomo nella sua lavorazione del legno una volta si usavano le accette, le seghe grandi e magari per tagliare un albero si impiegava anche un paio d'ore oggi grazie a tutto questo che vedete l'uomo lavora meglio sia con professionalità sia con precisione ma soprattutto risparmiando tempo e nella sezione degli alberi c'è più professionalità e più cura verso il bosco grazie a tutti grazie a tutti